Noi vi proponiamo invece il video che annuncia ufficialmente il tema di questa puntata e lo introduce dicendoci poi in fondo qual è la cosa più importante da portare sempre con noi ovunque andiamo e poi ci vediamo dopo la pubblicità. 3, 2, 1... La scuola è finita e finalmente è iniziata l'estate ma ecco che arriva la parte più bella cosa mettere in valigia? Allora vediamo, il costume c'è, gli occhiali da sole anche, ciabatte, telo, accappatoio, ah sì, la maschera da sub e il cappellino, ma no non quello. Vabbè, portiamolo che non si sa mai. Se invece andiamo in montagna, ci vogliono uno zainetto comodo, le scarpe da trekking, la tenda... Ah sì, il peluche e la tua coperta preferita, che sennò poi non riesci a dormire. E poi? Basta, no? Beh, in effetti, per rendere uniche le vacanze manca una cosa che non entra in nessuna valigia del mondo. Gli amici, potremmo lasciare tutte le valigie a casa se loro sono al nostro fianco. E gli amici di ProntoVet? Tranquilli, nel nostro cuore ci sarà sempre uno spazio per voi. Che l'estate abbia inizio!